bello a tutti dal vostro Gaboman eccome qua ragazzi oggi sono tornato con un nuovo video a sto giro è una puntata più che speciale ho deciso di fare un esperimento anche approfittando dello sconto che c'è sulle monete MyClub nel particolare questa settimana non so se è anche la prossima ma penso di no con mille monete MyClub che costano esattamente 10 euro 9,99 euro se possono pescare ben 10 giocatori voi sapete che se ne dovrebbero pagare 250 delle monete MyClub a botta quindi se ne pescherebbero solo 4 in condizioni normali ma tanto la Konami ha fatto apposta sai quanta gente ha fatto ragionamento mio? tanti io però non lo faccio tanto per lo sconto lo faccio proprio per esperimento io voglio vedere se pagando con soldi reali si ottengono dei vantaggi nel gioco che significa questo? riusciremo a pescare Iberi, Robin, Bale e qualcun altro? se si è una schifezza perché io ho sempre odiato i giochi in cui se paghi vieni avvantaggiato di conseguenza io voglio cercare di sfadastomito sperando che non sia come penso io perché se è come penso io veramente è una merda scusate se ve lo dico però non se può cioè non è che uno deve pagare per ottenere Ibrahimovic, Bale, Cristiano Ronaldo e Cavolivari vediamo quindi spezzetterò il video in due parti questa è la prima parte faremo 5 pescatone la seconda parte ve la pubblicherò o domani o dopo domani adesso vediamo se nel mezzo vi metto qualche altro bel videozzo cioè devo ancora pensare andiamo subito e proviamo a vedere quello che succede quindi contratto allora eccoci qua ingaggia giocatore agente top io naturalmente ve lo ripeto continuo a provare con Castolo perché gli altri giocatori non mi servono porta, difesa e centrocampo sto piazzato che è una meraviglia quindi prima pescata del giorno con Castolo Castolo Castolon se può sentire è uno che casca per terra paga con monete MyClub eccolo qua 100 monete MyClub come vi ho detto confermiamo e vediamo chi cazzo ce capita eccoci qua i palloni neri naturalmente non ce stanno preparatevi perché prima botta primo pallone nero beccamo la vezzi ecco là ecco là niente manco così se pescano benissimo perfetto sordi buttati al cesso però è la prima pescata del giorno ecco là sono tutti uguali guarda che facciata deficiente ci hanno sempre questo liga questo questo eh sì facciate sempre ci hanno aggiunto un po' più di barbetta e ci hanno fatto il capello lungo un po' stempiato per il resto cioè è lo stesso giocatore di sempre il classico 75 che fa 350 ruoli e non è buono a fa niente portoghese del raio vallecano 26enne 1,81 per la cronaca ripeto 75 di VGG molto equilibrato tra tecnica velocità e fisico rispettivamente 63 62 59 per il momento sembra che stiamo sfatando il mito che pagando si possano ottenere dei vantaggi del gioco io continuo a provare vediamo quello che succede eh confermamo aggiungiamo a membri mi club e vediamo un po' chi capita seconda botta oh non vi sto a dire di cacciare 10 euro cioè non sto a fare pubblicità conami se potete evitate cioè io lo sto a fare perché mi andavate buttarsi 10 euro sinceramente però secondo me il gioco già costa un botto a dargli anche altri soldi secondo me è veramente una schifezza quindi ve lo dico per voi non me imitate cioè anche se mo dovessi pescare un ardo non me imitate lasciate perdere non buttate i sordi spendeteveli per qualche altra cosa andate a fare una passeggiata con la fidanzata quello che vi pare vabbè banda alle ciance provamocene un'altra volta posizione attaccante pagamo con monete my club se sbagliamo perché io sono molto disattento me potrei sbagliare seconda pescata del giorno è che c'è qua non sono più abituato a vedere praticamente zero palloni neri ma non ce ne frega niente io schiaccio così e vediamo se riusciamo a pescare un pallone nero niente non si pesca eccola perfetto oh a conami non si smentisce mai pure se gli dai i sordi indindi rindini è la stessa cosa eccola questo già ho pescato ma lo ricordo no me sa de no boh è ideie oh manco malissimo guardate quanto fisico e guardate quanta velocità in quanta tecnica fa ride cioè praticamente nullo però comunque oh la seconda squadra potrebbe essere un buon giocatore nigeriano del west midlands stripes ma che squadra è boh 25enne alto 1 metro e 81 cm e niente vi ripeto tecnica 64 velocità 73 fisico 76 oh questo non dovrebbe essere male se dovesse avere parecchia affinità col mio allenatore dai 90 in su io una possibilità proverai pure a dargliela sinceramente perché sto fisico e sta velocità mi ispirano non poco quindi vabbè andiamo avanti ancora una volta aggiungiamo a membri mi club come di consueto e proviamo a fare la terza pescata del giorno ancora cassolo non se sbagliamo ancora una volta paghiamo con monete my club che ci hanno sfilato confermiamo e vediamo qual è la terza pescatona del giorno dai è così che non lo pesco manco mo dai io schiaccio chi s'è visto s'è visto eccolo là perfetto tre palloni oro 10 euro proprio presi e buttati dentro il secchione dell'immondizia eccolo in altro eccolo qua la classica faccia da deficiente è Hoesen 75 di valutazione generale tutti così sto piano 67 di tecnica 65 di velocità 62 di fisico olandese del Groningen 23enne alto un metro e 86 ricapitolamo 3 pescate 3 palloni oro non date una lira alla Konami mi raccomando confermamo eccoci qua aggiungiamo ancora una volta membri my club e proviamo a fare la quarta pescata del giorno però se è come penso io su 10 pescate è un fenomeno che capita ma no secondo me non è che capita un pallone così secondo me potrebbe capitare qualcosa di tosto mi auguro di no però vedremo vedremo ancora una volta posizione attaccante paga oddio no che cazzo ho fatto paga con monete my club confermamo e vedremo chi è la quarta pescata del giorno o comunque questo sarà il quarto giro dei castoli a 5 a 5 a 5 a me non mi capita un pallone nero da tempo in memore e mo mi deve capitare per forza eeeh che toti che fa dai è così se continua porca puttana ma eccola chi è qui un'altra volta ma hai rotti i coglioni oh sempre tu me ricapiti che cazzo oh è la quarta volta oh cioè non solo con la genti champions mo mi rompi i coglioni pure con il castolo cioè non ci posso credere mi sono stufato pure di nominarlo questo 76 di VGG guardatevele le skill le cose è una pippa di quelle esagerate cioè oddio se lo prendete al campionato master 18enne 76 questo vi diventa un fenomeno ma qua ce ne fanno una lira ah la prolifica non ce ne può fregare di meno perché l'ho visto 2000 volte e meno lo vedo e meglio me sento confermamo ricapitoliamo 4 pescate 4 palloni oro aggiungiamo a membri mi club ma ve ripeto secondo me bisogna fare la media ponderata delle 10 pescate e prime 4 hanno fatto schifo vediamo la quinta ed è l'ultima del giorno pagamo con monete my club se sbagliamo confermamo è che c'è qua dai e vediamo un po' sta di veramente una schifezza eh vai schiacciamo ma d'altro canto se hanno fatto lo sconto secondo me ne manco vale così eh infatti ecco là 5 palloni oro su 5 cioè proprio una vomitata di pappagallo cioè una schifezza ecco là questo è un po' diverso dal solito chi è oh chi è questo è cave naghi argentino del river plate 31enne 1,81 m 76 di vgg tecnica 64 che fa già schifo di suo velocità 40 non oso proprio nominale fisico 47 cioè fate voi un'altra pippa vabbè può essere pure comunque che mo col fatto che c'è stato lo sconto e hanno previsto che tutti vanno a comprasti cavolo di monete my club può essere pure che hanno un po' abbassato le probabilità di prendere i fenomeni però io ho visto all'epoca ho visto dei video di gente che pescava cioè hanno pescato i fenomeni hanno pescato veramente dei bei fenomeni vabbè ragazzi che dire se vi è piaciuto il video mi raccomando bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e non mi resta che dava appuntamento al prossimo video vi ricordo che questa è stata la prima puntata quindi dovrò fare altre 5 pescate con le monete my club pagate fior di sordoni e vediamo quello che succede vedo appuntamento alla prossima bella a tutti ciao